10 candidati a sindaco, 21 listo, 840 aspiranti consiglieri comunali a Trieste, non ce la fa solo la lista Trieste europea entro il termine ultimo del mezzogiorno di oggi. Poker di candidati a sindaco a Muggia per il successore della Marzi, domani a sveglia a Trieste il primo confronto fra Polidori del centro-destra e Bussani del centro-sinistra. Vaccinazioni anche senza prenotazione per gli studenti e personale dell'università, mascata all'obbligo Green Pass in Aule Studio, case dello studente e mense. Gare pilotate in cambio di tangenti, condannato l'ex direttore regionale del demanio Roberto Fusari deve allo Stato 130 mila euro. Paura in via Galatti, la scorsa notte due ubriachi di origine irachena hanno aggredito un uomo fuori da un locale, arrestati dalla polizia. L'energia del centro, Maliano Saccaba Conate per scuotere i tabelloni in casa Pallacanestro Trieste, le sue parole in vista della Supercoppa. Vento in poppa alla Barcolana 53 grazie a Fondazione CR Trieste a supporto della Barcolana Young e della mostra Vita col mare a Muggia. Telespettatori buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del telegiornale di Telequattro che parte con le elezioni presentate alle 21 liste in appoggio ai 10 candidati sindaci per Trieste. Ora si attende il vaglio della Commissione elettorale per verificare che tutta la documentazione sia in regola ma abbiamo già il quadro completo di chi correrà per il posto da sindaco e per quelli in Palazzo Cheba e consigli circoscrizionali. Il primo servizio. Scattate le 12, le porte si chiudono e dopo due giorni di via vai il tempo è esaurito e il quadro ormai è completo. Stamattina sono state ultimate le iscrizioni per le candidature al Consiglio Comunale e a quelli circoscrizionali per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre a Trieste. 21 le liste in appoggio a 10 candidati sindaci, 840 i candidati a entrare nei consigli circoscrizionali e in Palazzo Cheba. Quasi tutte le previsioni sono state rispettate con solo una sorpresa. Rimane fuori dalla corsa elettorale la lista Trieste-Europa di Alessandro Claut che sarebbe dovuto essere in appoggio al sindaco uscente Roberto Di Piazza ma che non è stata presentata entro i termini consentiti. Il grosso delle presentazioni delle liste però lo abbiamo visto nella giornata di ieri. Tra coloro che oggi sono riusciti a rispettare il termine delle 12 c'è il Movimento 5 Stelle che intorno alle 11 ha presentato la documentazione completa ma anche Cambiamo Trieste capofila al già Presidente del Consiglio Comunale Marco Gabrielli e noi con l'Italia autonomia responsabile con l'onorevole Renzo Tondo arrivato proprio al fotofinish. Dopodiché le porte si sono chiuse. Ora però è scattato il vaglio della commissione elettorale per verificare che tutte le candidature tra aspiranti sindaci e aspiranti consiglieri siano state formalizzate secondo le regole. Un passaggio che dovrebbe richiedere solo 24 ore anche perché sono già state mandate avanti le documentazioni della giornata di ieri. Vero è che tralasciando possibili sorprese delle ultime ore il disegno completo è questo. Il sindaco uscente Roberto Di Piazza ha incassato il sostegno di Forza Italia, Lista Di Piazza, Lega, Fratelli d'Italia, Cambiamo Trieste e noi con l'Italia. Come detto è però rimasta fuori dalla corsa Trieste-Europa di Klaut. In appoggio a Francesco Russo ci sono Punto Franco, Partito Democratico, Trieste 2021-2026, uniti per un'altra città, il Partito degli Animalisti e Ambientalisti e quello dei Pensionati. Alcuni esponenti delle sardine di azione invece sono direttamente confluiti nella lista Punto Franco. Poi c'è la candidata sindaco Tiziana Cimolino che oltre ad avere la sua lista Europa-Verde-Verdi-Trieste ha ricevuto anche l'appoggio di Sinistra in Comune. Infine gli altri sette candidati sindaci con la loro lista o partito. Alessandra Richetti per il Movimento 5 Stelle, Franco Bandelli di Futura, Riccardo La Terza di Adesso Trieste, Ugo Rossi del Movimento 3V, Giorgio Marchesic candidato della Federazione Territorio Libero di Trieste, Arlon Stock della lista Podemo e Aurora Marconi della lista Trieste. Entra nel vivo anche a Muggia la campagna elettorale per le elezioni comunali. Oggi il termine ultimo per le presentazioni delle liste. Domani sveglia Trieste il primo confronto tra Paolo Polidori candidato sindaco del centro-destra e Francesco Bussani candidato sindaco del centro-sinistra. Marco Stabile. Poker di candidati come preannunciato per il successore di Laura Marzi a Muggia. Oltre a Paolo Polidori per il centro-destra e Francesco Bussani per il centro-sinistra, in lizza ci saranno pure Roberta Tarlao con la sua coalizione civica e Maurizio Fogar con la lista Muggia. Questi ultimi già visti su Telequattro in un acceso confronto. 15 le liste complessive a supporto dei candidati a primo cittadino. Qui una novità in realtà c'è. Si tratta della lista Noi per Muggia, confezionata e presentata all'ultimo momento dall'ex assessore della Giunta Marzi Roberto Rosca, che dopo aver rotto con l'attuale Giunta, manifestando l'appoggio all'attuale vice sindaco leghista di Trieste, Polidori, e perso le sue deleghe, ha dato vita alla nuova civica. Dunque candidati e liste in appoggio. Paolo Polidori si presenta con il supporto di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Muggia di Piazza per Muggia, Lista Stenel per Muggia, Prima Muggia, Noi per Muggia. Francesco Bussani può contare su PD, Cittadini per Muggia, Rifondazione Comunista e Lista Bussani. Roberta Tarlao è sostenuta da Meio Mugia, Verdi Secus, Podemo e Comitato Noghere Nola Minatoio. Infine Maurizio Fogar, candidato con la sua lista Muggia. Tutte le candidature sono state inviate alla Commissione elettorale circondariale per i previsti controlli di legge. La campagna elettorale muggesana è pronta ad animarsi già domani mattina a Sveglia Trieste, quando a partire dalle 7.30 Paolo Polidori e Francesco Bussani si confronteranno negli studi di Telequattro, Laura Bucarella in conduzione e previste anche le chiamate da casa. E seguite anche Ring che riprende proprio domani, proprio in vista delle elezioni comunali Trieste e Muggia. Bene, domani riprende l'appuntamento la trasmissione politica condotta da Ferdinando Avarino, vice direttore di Telequattro, tutta incentrata a settembre sulle elezioni. Questa settimana tre puntate, mercoledì, giovedì e venerdì. Dalla prossima settimana le puntate saranno quattro, sempre alle ore 21 in ogni caso. Bene, domani ci sarà il primo confronto con quattro candidati a sindaco. Quindi alle 21 su Ring, primo appuntamento domani sera. Una città più sicura anche attraverso l'aumento del personale di polizia locale, appalti pubblici più controllati, soprattutto sul fronte della qualità. È la ricetta per Trieste della candidata sindaco del Movimento 5 Stelle, Alessandra Richetti. Ci racconta meglio Laura Bucarella. Sicurezza perché Trieste comunque sta cambiando e c'è una presenza sempre più importante di gruppi che si stanno comportando non secondo le regole. Non è dubbio la candidata a sindaco di Trieste del Movimento 5 Stelle, Alessandra Richetti. Le passate amministrazioni non hanno aumentato, come promesso, la sicurezza in città e la tutela della cittadinanza. Anzi, a suo giudizio, la situazione è peggiorata. Ecco allora le proposte per far fronte ai problemi vecchi e nuovi. Quindi sicurezza significa sicuramente aumentare il numero della polizia, le dotazioni della polizia locale, ma soprattutto significa fare prevenzione, essere presenti sul territorio con progetti che vadano a intercettare tutte quelle situazioni critiche che devono essere prese per tempo. Appalti e bandi pubblici sono un'altra nota dolente delle passate gestioni della cosa pubblica, secondo la candidata. Sento costantemente una Trieste del Nossepol e poi scopri, quando vai ad amministrare anche nel mio piccolo della circoscrizione, scopri che non stiamo tutelando la nostra Trieste, non la stiamo tutelando nell'ambito degli edifici, degli spazi, ma anche di tutti quei lavori pubblici che durano poco, perché non abbiamo le risorse per controllare anche la qualità dei lavori stessi. E questo mi sembra gravissimo. Bandi significa per noi avere risorse, avere risorse che consentono di togliere via il Nossepol e consentono invece di avere più lavoro qui a Trieste, avere servizi di maggiore qualità. Passiamo alla pagina della cronaca con una notizia dell'ultima ora. Un 19enne di Morrupino in vacanza in Istria è morto dopo una caduta dalla scala. Si tratta di Jacob Biteznik, il giovane espirato all'ospedale di Pola. Reduce da una caduta, da una scala, mentre era in vacanza con un gruppo di amici. È morto ieri, lunedì 30 agosto, dopo essere rimasto in coma per una settimana all'ospedale. L'incidente era occorso nella notte fra il 20 e il 21 di agosto. Ancora cronaca, pilotava gare pubbliche in cambio di tangenti. L'ex direttore dell'agenzia del demanio regionale Fusari è stato condannato dalla Corte dei Conti a un maxi risarcimento da oltre 130 mila euro. Vediamo. Ammonta oltre 130 mila euro la somma che l'ex direttore di filiale per il Friuli Venezia Giulia dell'agenzia del demanio Roberto Fusari dovrà avversare all'amministrazione secondo quanto stabilito dalla Corte dei Conti. Fusari, che oggi ha 70 anni, aveva già patteggiato quattro anni fa una condanna a un anno e 11 mesi di reclusione, sospesi con la condizionale per episodi di turbativa d'asta e corruzione. La procura contabile aveva inizialmente chiesto un risarcimento di 279 mila euro. Fusari è stato riconosciuto colpevole di reati legati a gare d'appalto, tra cui la vendita di 30 bunker metallici ancorati al suolo tra Udine e Gorizia, servizi di pulizia e manutenzione di aree verdi e dell'ex palazzina infettivi dell'ospedale militare di Trieste, dell'ex deposito lubrificante militare a Muggia. Come ricorda oggi il messaggero Veneto, alcune gare erano state pilotate tra il 2009 e il 2012, privilegiando alcuni imprenditori, dando alle gare stesse scarsa pubblicità, fornendo nei bandi informazioni imprecise e indicando prezzi di vendita eccessivamente bassi e soprattutto compiendo irregolarità nell'apertura delle buste dei candidati all'appalto. Paura nella scorsa notte in via Galatti, due giovani iracheni ubriachi hanno dato vita a una violenta lite fuori da un locale del borgo teresiano, per questo motivo sono stati arrestati dalla polizia e condotti ai domiciliari. Ubriachi aggrediscono un uomo all'esterno di un locale di via Galatti, facendo scoppiare una violenta lite. L'episodio è accaduto ieri alle 5 del mattino ed è costato l'arresto a due cittadini iracheni, entrambi 26 anni, con regolare permesso di soggiorno e residenti in città. Gli agenti di polizia, giunti sul posto a seguito di alcune telefonate pervenute dal borgo teresiano alla sala operativa della questura per il tramite del numero unico 112, li hanno arrestati per lesioni in concorso, minacce e resistenza pubblico ufficiale. Dopo aver dato vita alla rissa, in palese stato di alterazione alcolica, i due giovani, alla vista degli operatori della volante, hanno assunto atteggiamenti e comportamenti violenti. Una volta identificati e ricostruito l'episodio, accompagnati in ufficio, dopo le formalità di rito, i due sono stati tratti in arresto e posti ai domiciliari. Ora il consueto bollettino Covid per quanto riguarda la regione Friuli-Venezia-Giulia con l'utilizzo delle nostre grafiche. Oggi in regione su un totale di 7.606 test e tamponi sono state riscontrate 112 positività al Covid-19, pari all'1,47%. Nel dettaglio 3.756 sono stati tamponi molecolari, da cui sono stati rilevati 85 nuovi contagi, con la percentuale di positività del 2,26%. Sono inoltre 3.850 test rapidi antigenici eseguiti, da cui sono stati rilevati 27 casi. Oggi non vengono registrati i decessi, le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 13 e sono 49, proprio come ieri, di ospedalizzati in altri reparti. Questo ovviamente lo comunica il vice governatore del Friuli-Venezia-Giulia con delega alla salute, Riccardo Riccardi. Gli atenei della regione alle prese con le nuove regole anti-Covid. Oggi il punto con l'assessorato regionale all'istruzione, con attenzione particolare a tutte le situazioni in cui vige l'obbligo del Green Pass. Università e conservatori a confronto con la regione sulle nuove regole anti-Covid da adottare in vista della ripresa dell'anno accademico. Nei prossimi giorni l'Agenzia regionale per il diritto allo studio, l'ARDIS, assegnerà i posti letto nelle residenze per studenti in numero di circa 300 a Trieste e 120 a Udine. Come già fatto l'anno scorso, l'assegnazione riguarderà solo stanze ad uso singolo, mentre l'accesso alle residenze sarà condizionato al possesso del Green Pass, fermo restando nei casi in cui non sia possibile vaccinarsi il possesso di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. La durata dei badge di ingresso alle case degli studenti sarà adeguata alla validità del Green Pass. Le aule studio saranno disponibili solo ai residenti, tranne l'aula di Viale Ungheria a Udine e un'ulteriore aula da individuare a Trieste che saranno accessibili a tutti con possesso di Green Pass e controllo della temperatura all'ingresso. La mensa centrale a Trieste sarà aperta dal 2 settembre con obbligo di Green Pass per l'accesso ma con possibilità di ritirare il pasto e consumarlo all'esterno. Quest'ultima soluzione è al vaglio dell'amministrazione in questi giorni. Con le tre università Atenei di Udine, Trieste e Sissa e con i due conservatori restano aperti alcuni temi che vanno chiariti a livello statale. In primis la validità del Green Pass per i soggetti stranieri vaccinati fuori dall'Unione Europea e la modalità di frequenza dei corsi propedeutici e pre-accademici per i ragazzi del conservatorio con meno di 19 anni per i quali non sussiste l'obbligo del Green Pass, temi su cui l'assessore si è riservato una verifica direttamente con il Ministero. Vaccinazione anche senza prenotazioni a favore delle università del territorio, una scelta fatta dalla Regione per sostenere l'avvio delle attività didattiche negli Atenei del Friuli Venezia Giulia. Vediamo. Le aziende sanitarie universitarie della Regione aprono a partire da domani le vaccinazioni anche senza prenotazione con accesso diretto, come già avviene per la fascia 12-18 anni, agli studenti e al personale delle scuole di ogni ordine grado e delle università di Udine e Trieste, inclusa la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, la Sissa. Nel dettaglio, per quel che riguarda Asugi, le sedi e le giornate nelle quali per il personale e gli studenti sarà possibile accedere senza prenotazione sono a Trieste, in centrale idrodinamica del Porto Vecchio, il 3, 4, 8, 15, 22 e 28 settembre, con orario dalle 8 alle 19.30. A Gorizia, l'ente Fiera Espomego, via della Barca 15, il 2, 7, 14, 22 e 29 settembre, con orario dalle ore 8 alle 19.30. A Monfalcone, al centro Anziani di via Fontanot 41, il primo, il 4, il 6, il 13, il 21 e il 28 settembre, dalle ore 8 alle 19.30. A Ronchi dei Legionari, alla palestra comunale di via Fratelli Cervi, il 7 settembre, dalle ore 8 alle 15.00. Inoltre, dal 15 settembre, sono previste sedute vaccinali dedicate presso la sede centrale dell'Università di Trieste. In questo caso, le pre-prenotazioni saranno gestite direttamente dall'Ateneo per facilitare l'organizzazione delle sedute. A partire dal mese di ottobre, ci si potrà prenotare anche presso le sedi periferiche dell'Università. Oltre a ciò, verranno eseguiti tamponi gratuiti su pre-annotazione per la copertura nei 15 giorni successivi al vaccino e prima della validità del Green Pass. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, pochi minuti e poi torniamo con altri servizi, altre notizie state con noi. Una notizia giunta pochi minuti fa alla nostra redazione, una segnalazione di un probabile rintraccio, anzi di un probabile manipolo di migranti, circa 15 i giovani che potrebbero essere stati scaricati da un camion che procedeva al raccordo autostradale Sistiana in direzione Monfalcone. Il camion avrebbe lasciato i migranti nell'area di servizio di Sistiana, circa 15 coloro che sarebbero scesi dal mezzo e fuggiti di corsa verso il Carso. Ovviamente di notizie come queste, di notizie come queste vi forniremo ulteriori dettagli già dalle prossime ore. Un martire Mon, signore Ettore Malnati, sintetizza così la figura del venerabile padre Placido Cortese, il frate che perse la vita dopo le torture subite a Trieste dalla Gestapo. Umberto Bosazzi. Anche la diocesi triestina sta avendo un ruolo importante nel percorso intrapreso dai decreti in merito alle virtù eroiche di padre Placido Cortese, il frate nato a Cerso, divenuto venerabile. Monsignore Ettore Malnati così ha raccontato stamani l'ultima parte della vicenda terrena del religioso, che negli anni 40 a Padova fu parte attiva di una rete che aiutò ebrei e perseguitati a fuggire dalla furia nazifascista, interessandosi anche degli sloveni internati nel campo di concentramento di Chiesa Nuova. Era necessario per la Gestapo fare in modo che padre Cortese abbandonasse il territorio della Basilica di Sant'Antonio, considerato parte del Vaticano. Con uno statra gemma per incontrare delle persone bisognose, padre Cortese va sulla piazza, viene preso, catapultato dentro in una macchina dei tedeschi della Gestapo. Padre Cortese non fu portato in Alto Adige, come si era pensato, bensì a Trieste, nella sede della Gestapo di piazza Oberdan. I tedeschi, da padre Cortese, volevano conoscere qualcosa di ben preciso. I nomi dei gruppi che erano disposti ad aiutare gli americani e anche i gruppi che erano disposti ad aiutare i parenti degli sloveni o dei croati che erano lì in campo in Chiesa Nuova. Il suo martirio è proprio questo. Si hanno delle testimonianze di uno o due che erano dentro anche loro lì nelle celle della Gestapo. La tortura terribile che padre Cortese dovette subire e mai uscì dalla sua bocca un nome. La vicenda di padre Cortese, il cui corpo è stato con tutta probabilità bruciato in risiera, riaccende l'attenzione sulla rete di religiosi che soprattutto negli ultimi anni di guerra ebbe un ruolo importantissimo nell'aiutare le persone perseguitate dai nazifascisti. Tre punti importanti in Italia. Trieste, Milano e Assisi. Trieste, Santini, Milano, Schuster, Assisi, Monsignor Nicolini, il Vesco. Questi erano in contatto attraverso terze persone e da questi tre pulpiti onesti le persone venivano instradate o in Svizzera o fuori dell'Italia. Il nuovo centro dell'Allianz Pallacanestro Trieste ha già conquistato compagni e staff tecnico in vista delle ultime amichevoli prestagionali e dell'appuntamento con la Supercoppa. Sentiamo le sue parole. L'energia di Sagaba Conate sotto canestro è una delle qualità imprescindibili della nuova Allianz firmata Franco Ciani. Il centro maliano, prelevato quest'estate dal Pauk Salonico, si è tuffato cuore d'anima nella nuova avventura triestina. Abbiamo un sacco di giocatori forti, dobbiamo essere concentrati sul processo di crescita della squadra e ascoltare il nostro coach. Questa Lega a correre è decisivo, quindi credo che con le caratteristiche dei miei compagni avremo alcuni vantaggi chiave nel gioco e cercheremo di sfruttarli in campo. Il 24enne, altro 2 metri a 0,1 per 118 kg, ma dotato di un'agilità sorprendente per un giocatore della sua stazza, sta cercando anche attraverso lunghe sedute video di immergersi nel sistema di gioco italiano, non dimenticando di come la coesione di squadra sarà una delle armi principali dell'Allianz. Spero in una grande stagione personale e di squadra, credo di portare un buon apporto in difesa. Un sacco di energia, davvero tanta energia su entrambi i lati del campo, offensivamente e difensivamente e ovviamente cerco di giocare sempre due. Domani la palla canestra a Trieste giocherà contro i tedeschi del Mitteldeutscher, l'ultimo scrimage a porte chiuse, palla due alle 18.30 a Laschko, prima dell'esordio ufficiale in Supercoppa, sabato a Trento, inizio sempre alle 18.30. Certo, saremo pronti, questo è il punto decisivo, saremo pronti a fare quello che il coach ci chiede, quello che ci chiede anche ogni giorno in allenamento ed è quello che faremo in campo. Andiamo anche a parlare della Triestina, tre arrivi nella giornata di oggi di nuovi giocatori che si uniscono all'Unione. Ufficiale a centrocampo arriva Marco Crimi, la Triestina è detta di comunicare di aver perfezionato il suo acquisto, il calciatore arriva a titolo definitivo dalla regina, si è legato all'Unione con un contratto di durata biennale con scadenza fissata al 30 giugno 2023, nato a Messina nel 90, Crimi è un centrocampista centrale di grande duttilità e dinamismo con quasi 300 presenze in serie B e 23 in serie A nel proprio curriculum. Ma restiamo sempre sulla pagina della Triestina, perché è arrivato anche Francesco Giorno, la Triestina comunica l'acquisto del diritto, delle sue prestazioni, il giocatore arriva in all'abbardato a titolo temporaneo dall'Alessandria Calcio, legandosi all'Unione fino al 30 giugno 2022, nato a Busto Arsizio nel 93, Giorno è un giocatore di centrocampo, abile negli inserimenti impiegabile come centrale, come mezzala, così come anche trequartista. E poi Marco Crimi, altro giocatore che arriva a titolo definitivo. Ecco, questi giocatori che la Triestina è riuscita a ingaggiare nelle ultime ore. Ora invece parliamo di Barcolana, perché andiamo verso la 53esima edizione in programma per la seconda domenica di ottobre, stamattina la presentazione degli eventi collaterali promossi dalla Fondazione CR Trieste. Il vento in poppa alla Barcolana lo mette la Fondazione CR Trieste, supportando da oltre 20 anni gli eventi culturali di sensibilizzazione ambientale e dedicate ai più piccoli in occasione delle settimane di avvicinamento alla regata più grande del mondo, ormai diventata la cartolina della città di Trieste. Noi veramente abbiamo ricominciato l'altro anno, quando c'era un periodo veramente difficile in cui le uniche priorità erano il disagio sociale e la sanità ovviamente, a pensare un attimo a quello che era il ritorno sul territorio di alcuni eventi e fra questi abbiamo finanziato e contribuito alla realizzazione della Barcolana dell'altro anno. Quest'anno è stata la stessa cosa, l'importo che abbiamo dato sono 75.000 euro con alcune, una parte su manifestazioni collaterali e soprattutto sulla Barcolana Young che abbiamo sponsorizzato da più di 20 anni. Oltre alla Barcolana Young, manifesto dei futuri talenti della vela, in programma nel weekend del 2-3 ottobre, al Barcolana Sea Summit, il convegno di divulgazione scientifica in programma al TCC, il nuovo centro congressi del Porto Vecchio dal 6 al 9 ottobre e alla rassegna Barcolana un mare di racconti che animerà tutta la settimana antecedente alla regata, quest'anno Fondazione Cire Trieste allarga il suo supporto a Muggia con la mostra Una vita con il mare. La Fondazione quest'anno ha deciso di supportare una mostra importante d'arte sul territorio a Muggia e questo devo dire è nel pieno spirito di Barcolana, allargare il perimetro degli eventi, allargare anche il tempo, il periodo, perché la mostra inizierà già a settembre. L'esposizione aprirà i battenti il 10 settembre al Museo d'Arte Moderna Ugo Carà, costruito nella cittadina rivierasca proprio grazie a un contributo di un milione della Fondazione Cire Trieste che porterà alla ribalta proprio una trentina di opere della collezione d'arte della Fondazione stessa. È una sorta di viaggio in sette tappe raccontato attraverso l'iconografia del mare, l'immagine di Trieste, il lavoro dei pescatori e naturalmente anche tante imbarcazioni. È tutto per questa edizione del telegiornale di Telequattro, grazie per averci seguito, una buona serata.